Il City Van Gaal ha dato il suo benestare via libera alle Wags nel ritiro dell'Olanda sulla bella spiaggia di Ipanema. Violante Cabau però non è attualmente presente, arriverebbe a Rio per la finale, racconta il marito Wesley Snyder, con tanto di condizionale sottolineato perché la scaramanzia è argomento sacro nel calcio, soprattutto ricordando quanto accaduto nel 2010. Eppure l'Ela Valigia l'ha già preparata anche se solo per uno spot e la riempita di mutandine visto che è stata la testimonial della campagna pubblicitaria di Sloggy. Con la maglia arancione sulle spalle in cui fa bella mostra il numero 10, la 29enne fa il suo personale in bocca al lupo ai suoi connazionali, incluso il bel maritino ovviamente. Good luck in Brazil con tanto di dita incrociate per diventare il miglior amuleto degli Orange. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!